Palla a nuoto in vasca, senza convinzione l'Ortigia viene punita da un Brescia in palla. Dopo una vigilia infinita piena di colpi di scena, senza il proprio allenatore in panchina, alla fine l'Ortigia è scesa in vasca a Palermo per affrontare il Brescia nella semifinale di Coppa Italia. I bianco-verdi guidati da Martino Abela e Goran Volarevic, oltre a non essersi allenati negli ultimi due giorni, devono rinunciare anche a Giacoppo, ancora fuori per l'infortunio rimediato venerdì prima del match contro Savona. La gara inizia in modo scoppiettante, con tre gol in 40 secondi, Renzuto-Napolitano con un gran tocco al volo e Lazic. Il Brescia difende benissimo e non fallisce nemmeno un'occasione con l'uomo in più. L'Ortigia fatica a trovare spazi, mentre i Lombardi accelerano e allungano, chiudendo il primo parziale sul 7-2. Nel secondo quarto, il ritmo è sempre alto, ma l'Ortigia gioca meglio e dopo il più otto di Alesiani e Lazic risponde con i fratelli Condemi. Prima Francesco su assist di Giribaldi, poi Andrea. Nel finale, Jokovic fissa sul 10-4 il punteggio all'intervallo lungo. Nel terzo tempo, nuovamente il Brescia deve rimane il gioco e a riprendere in largo con Presciutti Jokovic-Egitto. L'Ortigia però non molla e con le parate di Tempesti e due belle conclusioni di Rossi e Ferrero riduce ancora il divario. L'ultimo quarto è sempre di marca Brescia, con l'Ortigia che con Di Luciano e Gallo cerca di limitare i danni. Alla fine è 17-8 per gli uomini di Bovo che affronteranno Recco nella finalissima. L'Ortigia finale per il terzo posto contro il Telimar. Questo è il commento del vice allenatore dell'Ortigia, Goran Volarevic, nel post partita. Questa è stata una giornata difficile e caotica, però non giustifica un approccio simile alla partita. Siamo entrati in acqua senza personalità, sapendo che stavamo giocando contro una signora squadra che ogni minimo sbaglio ti punisce. Sono rammaricato, anche se devo dire che dopo nella fase centrale è andata meglio. In realtà anche nel primo tempo abbiamo fatto qualche azione positiva, ma non siamo stati premiati. Comunque ora dobbiamo ritrovare concentrazione e riorganizzarci perché sicuramente non si può partire così. Una nota positiva sono stati i giovani che si sono fatti sentire a vedere in acqua. I giovani hanno fatto il loro lavoro così come deve essere, ciascuno deve fare la sua parte. Voglio invece salutare il mister Piccardo che è fondamentale per questi ragazzi. La conosce bene nell'anima. Speriamo che torni il prima possibile con la squadra. Domani abbiamo un'altra partita, anche questa è importante per ritrovare il gioco, ma avremo dovuto sfruttare anche questa. A fine gara ha parlato anche il centro boa bianco-verde Cristian Napolitano, uno degli ex dell'incontro. La partita è nata male perché è successo di tutto. Siamo arrivati all'appuntamento, non dico impreparati, ma non al meglio. Abbiamo dovuto fare tutto in fretta. Poi nel nostro sport due giorni senza allenarsi sono un'eternità. Non sono scusanti, però affrontiamo una squadra che si sta giocando Scudetto, Coppa Italia e Champions. E magari con una preparazione del match senza tutti questi problemi ci avrebbe permesso di fare meglio. Però questa partita ci ha messo un po' di benzina per domani. Sarà una bella finale per il terzo posto con il Palermo. Vi approfitto per fare i complimenti al Teli, ma sarà bello giocare questa finale tutta siciliana. Domani sarà un'altra partita, vinca il migliore. Grazie.